Si è conclusa a martedì sera con una bellissima finale la settima edizione del torneo di tennis che si svolge ormai d'abitudine nel mese di agosto presso il Tennis Verbania. Torneo denominato da quest'anno Synergy Open e che ha visto partecipare tra adulti e ragazzi 135 tennisti da tutto il nord ovest. La manifestazione dall'anno scorso è anche dedicata alla memoria di Roberto Galli Senior, grande appassionato di tennis scomparso purtroppo quasi due anni fa. A Trobaso, di fronte ad un folto pubblico e con la presenza del primo cittadino di Verbania, Silvia Marchionini, all'atto conclusivo sono arrivati il favorito numero uno, Marco Brugnerotto, varisotto classificato 2.3 tesserato per Lata Battisti Trento e la terza testa di serie del seeding, Marco Di Lorenzo, classificato 2.5 dello Sporting Club Cusano Milanino. La partita è stata molto appassionante e combattuta nel primo set, dove Di Lorenzo spesso è riuscito a limitare la maggiore potenza di Brugnerotto, mentre nel secondo il tennista di Varese si è portato velocemente sul 5-1, chiudendo poi la contesa per 6-3-6-3. Sono stati 15 giorni intensi di grande tennis sui campi di Trobaso, del tennis Verbania, ha sottolineato il delegato fit Giorgio Clavico. Ed ora l'attenzione dei tennisti e degli appassionati si sposta sul torneo Open di doppio ABE, che comincerà sabato, e sui campionati provinciali assoluti, che sono previsti a Trobaso e Pallanza dall'8 settembre, e che termineranno la stagione agonistica della nostra provincia.